L'apertura sulla sinistra per Nené, va a largo, in mezzo c'è Immatri, ancora Nené, Nené la sterzata per entrare sul destro, Nené il cross a cercare, Biondini troppo arretrato, Nainggolan al volo col destro, Raja Nainggolan, un gol meraviglioso, forse la chiude lui al minuto 34. Ha colpito perfettamente la messa nell'angolo dove Viviano non poteva arrivare.